ma che sei mai scemo grazie, grazie, bravissimi grazie, grazie io volevo ringraziarvi tutti perché davvero questo 700 paresi non muore mai quindi Marilina soprattutto volevo dire un applauso grandissimo a Marilina perché ha lavorato con noi questo settimana ed è vera, c'è anche il suo medico qua oggi e ha una frattura alla cingura, una piccola frattura con la sua destina è una frattura in carinale un applauso grande donna, una professionista che è tornata con noi dopo 5 anni di assenza dalle scene con la piccola ribalta con 700 paresi questo spettacolo che ormai ha raggiunto la 659esima replica a questo momento quindi voi siete state celebrando con noi questo momento e davvero volevo invitarvi ad andare su Facebook compagnia piccola ribalta, cercateci se lo spettacolo vi è piaciuto scrivete i vostri commenti, cliccate mi piace se non vi è piaciuto non scrivete niente mi piace e replichiamo anche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti